Da Radio Roma, la radio dei VIP, incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo in un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi. Eccoci nuovamente in studio e naturalmente dopo l'intervento di Enoro Vallone appunto ritorniamo ancora a parlare, abbiamo chiuso questa parentesi appunto, lunga parentesi, degli sportaquatici insomma abbiamo deciso che, almeno il dottor Finucci, abbiamo appurato appunto che il gym nuoto può essere sicuramente, può aiutare moltissimo in queste situazioni però sempre a patto che venga praticato in maniera intelligente e soprattutto accurata, insomma è seguita soprattutto da un esperto. Perciò diciamo invece c'è un'altra cosa, parlando di sport, che poi questo è sport diciamo ma anche spettacolo, che poi tutto lo sport alla fine può diventare spettacolo se fatto praticato in maniera agonistica. Però sicuramente implica dei movimenti del corpo che possono essere poi, su questo ho sempre sentito opinioni contrastanti, dottor Finucci. Praticamente parliamo della danza del ventre, che è una danza orientale che è stata così importata ormai in Italia, nascono tantissimi appassionati ogni giorno, poi nascono, sorgono tantissime sul territorio, tantissime manifestazioni, tantissime manifestazioni appunto inerenti appunto a questa danza orientale che sicuramente trae le sue origini poi dall'antico Egitto insomma addirittura. Per quanto riguarda la danza del ventre, per una persona che soffre di schiena, oppure anche per chi non soffre di schiena effettivamente, parliamo da chi non soffre, può essere, può creare dei problemi e per chi invece già soffre può essere una, come dire, quasi un modo per alleviare i problemi oppure sicuramente va a peggiorare la situazione? Allora, intanto voglio dire che non esiste letteratura scientifica mondiale, diciamo non esiste un'evidenza scientifica sull'aumento dei casi lombalgia dovuta appunto alla danza del ventre, questo innanzitutto va detto, si tratta di chiaramente un tipo di attività sportiva praticata per quanto sia insomma in diciamo un numero abbastanza contenuto, comunque diciamo che un soggetto normale, cioè che non ha nessun tipo di problema, non sembrerebbe, se appunto viene insegnata bene questo tipo di attività, non sembrerebbe essere esposto a particolari rischi rispetto ad altre attività sportive. Diverso invece il discorso per coloro che hanno già una lesione discale, noi sappiamo che il disco interverterbale in genere quando c'è una lesione tende a muoversi, per cui questo tipo di attività sportiva che, ginica diciamo, che tende a sviluppare dei movimenti particolarmente rapidi e intensi a carico del racchio del lombosacrale, potrebbe in alcuni casi diciamo far soffrire un pochino il disco interverterbale ulteriormente e dar luogo a dei conflitti cosiddetti discoraticolari con conseguente dolore. Questa è una condizione però che va parutata di ogni singolo caso. Perciò diciamo che una persona che magari, abbiamo detto che inizialmente, per una persona normale, chiaramente normopatologica, normalmente normopatica, si dice. Un soggetto sano. Un soggetto sano, praticamente non dovrebbe dare problemi. Però se una persona invece è appassionata appunto di danza del ventre, man mano che pratica danza del ventre, anche per una cosa, per un fattore esterno chiaramente, estraneo appunto a questa attività, e magari subentra un problema di scala, di produzione o estrusione eccetera eccetera. Praticamente a questo punto vi sembra di capire che può essere controindicato in alcuni casi? Sì, in alcuni casi sì, nel senso che deve essere fatto uno studio appunto dal fisiatra competente, vedere un po' quali sono i movimenti particolari che possono scatenare questo tipo di dolore, dovuto appunto allo spostamento dei dischi o comunque alcune contratture antagiche, riflesse muscolari. Eventualmente si può cercare di evitare alcuni movimenti specifici, oppure in altri casi si è costritti purtroppo, quando si ha una presenza di ernie che sono abbastanza importanti, a diciamo abbandonare questo tipo di attività sportiva. Però nel soggetto sano appunto questo non è assolutamente controindicato, nel senso che è chiaro che da una sollegezione che può essere rispetto a altre attività sportive un pochino più vivace, dal momento in cui si ha una lesione vera e propria del disco intervertebrale è importante, in questo caso converrebbe appunto cercare di mantenere un equilibrio appunto tra il disco stesso e le strutture nervose. Le consiglierebbe di smettere in questo caso? Beh comunque si può, non smettere addirittura, ma comunque si può ridurre diciamo il movimento stesso, quindi continuare a praticare la possibilità sportiva però senza esasperare il movimento della colonna lombosacrale. Bene, io a questo punto mi avvalgo della consulenza appunto di un'esperta appunto di danza del ventre, d'altro essendo anche medico, ho una sua collega, tra l'altro è insegnante appunto di danza del ventre, ma è proprio una passione familiare, addirittura che si trova avanti appunto di madre in figlia, perché la madre la praticava, la pratica ancora, lei continua a praticarla e sua figlia appunto una provetta appunto da danzatrice del ventre. Parliamo, parlo della dottoressa Tiziana Manenti, buonasera dottoressa e benvenuta a Radio Roma. Buonasera, buonasera a tutti. Lei ha ascoltato appunto quello che diceva appunto il dottor Finucci poc'anzi. Guardi, diciamo, sono riuscito a prendere, a capitare le ultime parole perché non riuscivo a prendere la linea prima, però mi può, diciamo, riassumere lei. Sì, no, stavo, stavo, riassumo subito. Presidente, il dottor Finucci parlava del fatto che se una persona è in un soggetto perfettamente sano, non ci sono controindicazioni per quanto riguarda la danza del ventre. Invece parlavamo, invece, in un soggetto magari che ha invece delle problemi, dei problemi, schiedo scusa, a livello patologico appunto dei dischi intervertebrali, a quel punto, teoricamente, se non bisogna smettere proprio, bisogna usare determinate, non bisognerebbe esasperare appunto il movimento ritmico appunto della danza del ventre. Lei a questo, in base a questo, cosa ne pensa? Allora, io... Sia come insegnante e sia come medico anche. Ecco, appunto, so che non voglio contraddire il collega, per carità, ci sono sicuramente dei casi dove c'è una patologia, però per la quale non si può fare nessun altro tipo di sport, cioè dove c'è una grossa patologia e dove un movimento può essere nocivo, è chiaro che qualsiasi tipo di sport non può non essere adatto. Per quanto riguarda la danza del ventre, se fatta correttamente, se eseguita con la postura giusta e i movimenti giusti, non possono nuocere per me a, diciamo, a problematiche sempre lievi della colonna. Io personalmente ne sono dimostrazione perché dopo un incidente stradale, avevo ad esempio due ernie cervicali, ho subito la frattura dell'ultima vertebra sacrale, l'anteriorizzazione del coccige, per cui nonostante tutto io anzi forse riesco a muovermi proprio grazie alla danza del ventre che per me è una ginnastica, se fatta correttamente, posturale addirittura perché in tutti i casi non ci sono salti, non ci sono sobbalzi, non ci sono grossi traumi per la colonna, per di più, diciamo, l'atteggiamento che si assume durante la danza è sempre con la schiena eretta, il busto eretto, vengono rinforzati e tonificati i muscoli addominali che contribuiscono comunque a stare correttamente, diciamo, in asse sulla colonna. Inoltre, i muscoli glutei, i quadricipidi femorali, sono tutti muscoli continuamente coinvolti in questa danza, per di più l'assetto è sempre, diciamo, su ginocchia leggermente flesse che fungono da ammortizzatori, un po' come quando si scia, che si sta sempre morbidi sulle ginocchia per ammortizzare ogni minimo, diciamo, sobbalzo, per cui non vedo una controindicazione, ripeto, se non ci sono casi particolari. Sono il fisiato, appunto, collega, sono un po' più luce, io per fortuna, non ho assolutamente contraddotto quello che lei ha detto, anzi, voglio sottolineare il fatto che sono perfettamente d'accordo, l'unica cosa che lei ha già detto, chiaramente, è che quando si tratta di lesioni vertebrali o discali che sono di particolare gravità nel rachi del lombo sacrale, in questo caso, chiaramente, non può essere indicato che servono di attività sportiva, né altre, chiaramente, non è che non è questa, è un discorso generale, certo. È un discorso generale, cioè chi non può praticare praticamente nient'altro, perché a questo punto potrebbe farmare anche il nuoto, insomma, vuoi dire. Certo, certo, sì, sono d'accordo, io anzi dico che, appunto, dal punto di vista, diciamo, rieducativo, io ho avuto proprio un modo, tra l'altro neanche, questo me lo ricorda, me lo sto ricordando in questo momento, di sottoporre al trattamento riabitivo persone che si dedicavano, appunto, a questo tipo di attività sportiva e io non ho mai controindicato questo tipo di attività. Si tratta semplicemente di avere degli insegnanti particolarmente validi nel, diciamo, accostare queste persone in modo equilibrato, in modo tale che non vi siano delle lesioni di nessun tipo, né di natura muscolare, di natura discale, quello che lei ha detto poco fa, per cui ritengo che sia un validissimo mezzo. In alcuni casi, diciamo che, anche per patologie che sono intermedie, dal punto di vista, appunto, della lombalgia e la ghia in generale, può essere certamente applicato.